Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla FIPILI dove a causa di un incidente si registrano code tra Pisa Centro e Pisa Nord-Est in direzione Firenze-Livorno. Passiamo sulla 15 dove a causa di lavori si segnalano rallentamenti tra Ulla e Pontremoli in entrambe le direzioni. Si consiglia inoltre prudenza alla guida a causa della pioggia che sta interessando gran parte della regione per la presenza di nebbia con visibilità ridotta sull'intera tratta della 15 e in A1 tra Aglio e Roncobilaccio. Città di Firenze si ricorda che è stato prorogato fino al 30 novembre il termine per la richiesta del bonus TPL Firenze per maggiori informazioni e consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitane e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!